Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 4 km di coda con tendenza all'aumento per un mezzo pesante, fermo o in avaria al km 302,3. In Fipilì per lavori all'altezza del turbone, code di 2 km verso Firenze tra Empoli Est e Ginestra, in carreggiato opposta a code di 1 km tra Ginestra e Montelupo. Per la canteristica sul raccordo Sena-Firenze, lavori in corso all'altezza di Tavarnelle, con scambio di carreggiata e chiusura dello svincolo in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Firenze. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, in via del Pozzino per lavori edili fino al 18 luglio sono in vigore di vieti di sosta e di transito nel tratto Piazza Carlo Dolci via Pisana. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!